Davide Zappacosta, ce lo racconti il tuo gol? Ma è stato un bel gol, no? Ho visto lo spazio per attaccare l'avversario, ho cercato di puntarlo e poi ho calciato in porta, fortunatamente è andata bene. Ma più che per il gol sono contento per la partita perché abbiamo disputato una bella partita contro una squadra molto tosta e sono tre punti che pesano. Tre punti importantissimi che danno segnali a tutti, a chi sta davanti e a chi sta dietro. No, soprattutto danno segnali e stimoli a noi perché stiamo dimostrando di potercela giocare con tutti. Quando siamo bene possiamo ambire a giocarcela con tutti e alle posizioni alte della classifica, ma dobbiamo rimanere così umili, compatti, dobbiamo aver voglia di soffrire perché sono le basi per vincere le partite, soprattutto adesso nel finale del campionato perché ci aspettano tutte le partite molto difficili. Tu l'hai detto partita difficile questa con il Torino anche perché insomma anche per loro sarebbe stato importante fare bottino pieno. L'hai sbloccata, poi insomma hanno pareggiato ma la forza dell'Atalanta è venuta fuori. Sì esatto, era una partita difficile perché tutte e due le squadre sono due squadre ambiziose che giocano su ritmi alti, sulla forza, sui contrasti e quindi è venuta fuori una partita maschia, molto complicata. L'abbiamo spuntata noi e abbiamo dimostrato ancora una volta davvero di avere tanta voglia di non mollare mai. e penso che sia questa la cosa più importante.